Questo suona molto rock, pensate. Smoke on the water, the deep purple. Sono note parallele che sono le stesse che si usavano nel Cinquecento. Nel rock molte cose che apparentemente sembrano nuove si tratta di cose che si facevano quattro secoli fa. La cosa paradossale è che se tu ti convinti che il ritmo sia predominante nella musica di consumo di oggi, è esattamente l'opposto. Il ritmo non c'è. C'è la musica che si sente normalmente e appiattita su una regolarità che porta a una sorta di abbrutimento demente. Mi trovo attonito di fronte a questo appiattimento del ritmo. Con un piccolo abbonamento mensile non solo aiuterai la nostra missione, ma vivrai rinascimento culturale come mai prima d'ora. Potrai visionare nuove conferenze, interviste esclusive e contenuti che non sono ancora stati rilasciati al grande pubblico. Abbonati ora. I video extra già ti aspettano. Buongiorno a tutti. Vi parlerò del ritmo. Il titolo è un po' pomposo, no? Storia universale del ritmo. Ovviamente non è universale questa storia e forse non è neanche una storia. Comunque vi parlerò del ritmo. Storia universale non è possibile perché immaginatevi quanti ritmi sono stati indagati dall'Africa all'Oriente, all'Europa, all'America. Le culture musicali sono in tutto il mondo, in tutto il mondo, molto diversificate. Pensate solamente il ritmo nella musica indiana. Ecco, non vi parlerò di nulla di tutto questo, ma vi parlerò della musica sostanzialmente occidentale, quindi della musica, soprattutto colta, quella che diciamo colta, cioè la musica classica occidentale. Se noi pensiamo alla sesta di Beethoven, la pastorale, e io ve la suonassi così. Questo è il tema del primo movimento della sesta sinfonia di Beethoven. Così è piatto, assolutamente piatto. Se io invece ve lo suono con il ritmo giusto, diventa il tema della sesta di Beethoven. Cioè è fondamentale che nel tema non ci siano tutte note uguali, ma ci sia, capite, che ci siano delle note più veloci e delle note più lente rispetto alle note, diciamo così, standard di una melodia. Pensiamo per esempio la quinta di Beethoven, la per celeberrima quinta di Beethoven. Se io vi suono queste quattro note così, sono quattro note qualsiasi. Quello che caratterizza queste quattro note è il ritmo. Capite? Se non ci fosse questo gesto, è proprio un gesto. Come se io facessi improvvisamente così. Facessi così. Un gesto che dice, ma cosa sta facendo? Questo è un pazzo. Però attiro l'attenzione in questo modo, facendo un gesto. Ecco, Beethoven fa un gesto. È un gesto in cui addirittura manca il battere della battuta. Cioè non è, cioè, ta 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 ta, ma è un. Quando io faccio un, un, vuol dire che c'è una pausa. Quel un è il silenzio. Quindi è, e poi, capite? Ecco, questa è una cosa indimenticabile. Diventa un gesto assolutamente indimenticabile. Tutto questo. Tutto questo. Io non so se succederebbe tutto questo se non avessimo un cuore, non avessimo dei polmoni e non avessimo delle gambe. Perché dico questo? Perché immaginatevi una cosa. Il ritmo, in realtà, ce l'abbiamo dentro il nostro corpo. Quindi il battito cardiaco, no? Un battito cardiaco normale è boom, 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 boom. Diciamo quasi 60 di metronomo sarebbe, no? Ma è qualche cosa che noi possiamo auscultare. Possiamo sentirlo, no? Il, il, il ritmo del nostro cuore. Il respiro. Quindi... Normalmente queste cose sono regolari, no? Certo, poi c'è l'aritmia, c'è la tachicardia, ci sono, quando uno corre, respira molto più velocemente. Quindi ci sono vari tempi, no? Con cui si espande, no? Un ritmo cardiaco respiratorio. Pensiamo poi al passo. Quindi possiamo camminare a un ritmo regolare. Insomma, tutto nel nostro corpo, tutto nella nostra vita è regolato dal ritmo. Tutto è regolato dal ritmo. Ora, se io adesso penso al ritmo della discoteca, diciamo così, è sempre boom, 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 boom. Io mi annoio abbastanza perché preferisco più l'aritmia e la tachicardia e l'irrigolarità, no? Per esempio, per esempio, pensate nella saga della primavera di Stravinsky, no? Stravinsky fa a un certo punto un passaggio che è diventato celeberrimo anche perché è in fantasia di, no? Di Walt Disney, nel film fantasia. E c'è, sono i dinosauri, no? In fantasia, cose del genere. C'è un accordo molto dissonante che diventa una cosa percussiva. E Stravinsky fa così. Vedete che io potrei continuare a fare così. E sarebbe noioso. No, non sarebbe nulla. Non sarebbe nulla. Invece Stravinsky organizza il ritmo. È tutto lì. Quindi, qui non ci sono accenti. Ci fa sentire due battute senza accenti. E poi improvvisamente. Fa in modo che ogni accento sia inaspettato. Cioè, lui non è che comincia a fare accenti e li fa tutti uguali, no? Come avverrebbe nella musica, appunto, della discoteca. Tutti uguali. No. Ogni volta l'accento è in un punto diverso. E quindi noi, è come un film di Hitchcock, abbiamo continue sorprese. Cioè, si crea un'aspettativa che viene disattesa, no? Disattesa nel nostro cervello. C'è una bellissima scena. Volevo solamente dirvi una cosa. Di una scena di un film di Kubrick che è 2001, di Sano nello spazio. E dove, all'inizio, tutto l'inizio del film, che è un film di fantascienza, quindi con astronavi, eccetera, eccetera. Comincia con degli scimioni. Con degli scimioni, no? Gli antenati dell'uomo. Gli antenati dell'uomo. Questi, naturalmente, scoprono l'omicidio, sostanzialmente. E soprattutto scoprono, uno di questi scimioni, particolarmente intelligente, scopre che il femore del cadavere di un nemico ucciso può diventare un'arma. Quindi, quando se ne accorge, diventa il capo, perché comincia a dare mazzate a tutti quanti. Poi, a un certo punto, questo femore, lo scimmione, lo butta in alto, lo butta in alto e Kubrick fa sì che questo femore diventi magicamente un'astronave. Un'astronave. È una simbologia molto semplice, ma efficacissima cinematograficamente, no? Ti fa capire proprio il passaggio dall'uomo primitivo all'uomo supermoderno, con le supertecnologie, che in realtà hanno la stessa radice, no? Hanno la stessa radice. Ora, quello che vi ho suonato di Stravinsky è il massimo della sofisticazione, ma deriva dalla cosa più semplice che ci sia, cioè proprio boom, 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 boom. E poi, appunto, diventa un'astronave, con il ritmo particolarmente sofisticato. Adesso vi faccio sentire un pezzo. Partiamo veramente con la lezione sul ritmo, partendo da un pezzo della fine del Cinquecento, in epoca elisabettiana, no? in Inghilterra, i pezzi venivano eseguiti sui virginali, che era una specie di clavicembali ma da tavola, proprio molto piccoli, con il suono del clavicembalo però, con le corde pizzicate, quindi la penne d'oca. Questo invece lo suono al pianoforte, che è l'unico strumento che ho qua in casa. Ora, questo si chiama la volta, è una danza, ed è di William Byrd, che è un grandissimo compositore dell'epoca elisabetiana appunto. Sentirete che una certa regolarità. Soprattutto, vedete, sono tutte note con la stessa durata, sentite. Vedete, ta 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 ta, è molto semplice. Poi lo ripete, però piano. forte. Piano. Lecco. Forte. fortemente, a un certo punto impazzisce, il ritmo diventa velocissimo, c'è una progressiva complicazione ritmica. Ma quello che volevo proprio sottolineare è un punto solo, una battuta sola. Sentite quanto è regolare. Adesso ve lo sottolineo proprio con uno, due, uno, due, uno, due. Poi a un certo punto farò uno, due, tre. Ecco, c'è questa differenza allora fra uno, due, uno, due, tre. Sentite. Uno, due, uno, uno, due, tre, un, due. Capite? Non avete capito niente? Non avete capito niente? Allora ve lo ripeto. Allora sentite. Questo uno, due, uno, due, uno, due, due, uno, un, due, tre, un, due, uno, due. C'è una specie di sbarellamento da uno, due, è diventato uno, due, tre, un. Ora che cosa succede? Immaginatevi di avere due gruppi di tre note, cioè un, due, tre, un, due, tre. E uno fa uno, due, un, due, tre, un, due, tre, uno, due. E sarebbe quel uno contiene tre note, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. E i sei ottavi. Se io adesso queste sei note, un, due, tre, un, due, tre che fa sei, li suddivido in tre gruppi di due, diventa un, due, un, due, un, due. Cioè un, due, tre, un, due, tre, un, due, un, due, un, due. Capite? Quindi il ritmo improvvisamente, pur essendo lo stesso numero di note con lo stesso tempo, però diventa un ritmo completamente diverso, diventa un ritmo scandito con tre accenti invece di due. Cioè un, due, tre, un, due, tre, un, due, un, due, un, due. Fra lato tenete presente che qui il passaggio questo che suona molto rock, pensate Smoke on the water, the deep purple, no? È proprio fatto con questi parallelismi, sono note parallele che sono le stesse che si usavano nel Cinquecento. Sostanzialmente nel rock molte cose che apparentemente sembrano nuove, si tratta di cose che si facevano quattro secoli fa, però recuperate diventano, no? Come sempre nella storia dell'arte, no? Le cose del passato possono essere rilette in maniera assolutamente nuova, assolutamente creativa, sorprendentemente nuova e creativa. Questo quindi vedete che è un pezzo molto antico, fra virgolette, di quattro cinque secoli fa, però che ha delle caratteristiche ritmiche molto particolari. Questo pezzo qua invece di Bach, è il terzo brandeburghese, l'inizio del terzo brandeburghese, e sentirete che il ritmo invece nel Settecento è molto regolare. Sentite che roba... Uno si immagina veramente i parrucconi, no? E... Ti to ting to to ton... Ti to ting to to ton... Ti to ting to... Ti to ting to to ton... Ti to doing... assedato, cioè sostanzialmente va avanti come una macchina, una assolutamente meravigliosa, Bach è il più grande compositore mai esistito, ma ha questa caratteristica, parte, va avanti a indagare sulla materia sonora in maniera molto coerente, molto coesa. Nello stesso anno della nascita di Bach, che nacque nel 1685, nacque Domenico Scarlatti, tra l'altro nacque pure Endel nello stesso anno, quindi è un'annata proprio fantastica, ma Domenico Scarlatti che era napoletano, era napoletano e quindi aveva l'influenza della musica italiana e della musica araba, perché sapete che i Borboni essendo stati in Sud Italia ed essendo stati fino al 1492 gli arabi erano in Spagna, quindi c'è un'influenza della musica araba, della musica europea, enorme attraverso quella portaerei geografica che è la penisola iberica. Ora, sentite allora il pezzo di Scarlatti rispetto a Bach, nato nello stesso anno, che è completamente diverso, è una specie di fuoco d'artificio, di elementi melodici diversi e di ritmi diversi. Sentite che roba! Grazie a tutti! Non so se avete notato che già tutto il pezzo è un'orgia di situazioni diverse, di gesti diversi, quindi un accumulo, un accumulo quasi surreale di gesti diversi, ma alla fine proprio quel ritmo che abbiamo sentito in William Byrd, nel ritmo cinquecentesco, del 2-2-2 invece del 3-3-3, appare qua nella versione ancora più rock rispetto a William Byrd, sentite che roba! improvvisamente un-2-3, un-2-3, un-de, 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 un! e dire proprio con le note le note tipiche il primo quarto quinto primo della musica rock sentite quest'altro pezzo di Scarlatti che è ancora più delirante sentite che roba qui c'è l'uso del 2 2 2 3 3 3 ma poi con dei gesti deliranti sentite oppure capite c'è una ricchezza una ricchezza ritmica questo è un pezzo del 1720 quindi a 300 anni che pensando adesso la musica che noi accendendo la televisione in qualsiasi momento noi accendiamo la televisione non sentiremo mai una cosa del genere cioè la musica che si sente normalmente è appiattita su una regolarità su una regolarità che porta me che sono abituato ad ascoltare a suonare queste cose a una sorta di abbrutimento demente insomma mi trovo mi trovo attonito ecco di fronte a questo appiattimento del ritmo e la cosa paradossale è che invece si è tutti convinti al giorno d'oggi diciamo così si è tutti convinti che il ritmo sia predominante nella musica di oggi nella musica di consumo di oggi è esattamente l'opposto il ritmo non c'è semplicemente scandire il battito cardiaco o il respiro o i passi uno dietro l'altro non sono ritmo sono l'elemento primordiale da cui nasce il ritmo ora sentite con lo stesso con la stessa tecnica del 3 e 3 e 2 e 2 e 2 cosa fa Bernstein in U.S.I.Story qui proprio si sente benissimo 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ho fatto perché non so il testo però America riesco a dirlo avete sentito allora lo stesso ritmo che abbiamo sentito in William Baird lo stesso ritmo che abbiamo sentito di Domenico Scarlatti un secolo e mezzo dopo dopo due secoli diventa negli anni 50 del 900 No West Side Story America una danza afro-cubana praticamente una danza portoricana anzi una danza portoricana ecco da Bernstein passiamo invece di nuovo andiamo indietro e torniamo a Mozart a Mozart sentite la stessa cosa fatta da Mozart in una sonata per pianoforte naturalmente è molto meno portoricano questo passaggio rispetto a Bernstein è inevitabile un portoricano a Salisburgo all'epoca di Mozart non si è mai visto ecco sentite allora questo pa 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 cioè noi ci beviamo una sonata di Mozart e non ce ne accorgiamo neanche ma c'è una ricchezza all'interno questo passaggio questo pezzo qui è pazzesco questa è l'estate di Vivaldi di Antonio Vivaldi le quattro stagioni addirittura qua c'è una specie di illusionismo ritmico all'inizio dell'estate perché noi non possiamo sapere che c'è una pausa all'inizio all'inizio c'è una pausa cioè sapete che la musica nasce dal silenzio ma noi non possiamo sapere se c'è una pausa all'inizio scritta scritta cioè Vivaldi per quattro battute fa tre pause all'inizio e qui noi sentiamo questo ci sembra invece l'inizio della musica allora sentite io faccio un ed è la pausa un 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 e adesso qua un cioè la quinta battuta finalmente c'è una nota su quella che era la pausa nelle prime quattro battute ve lo faccio risentire eccola questo è il battere della battuta adesso di nuovo battere della battuta qui adesso è regolare battere perché sul battere della battuta ho una nota adesso di nuovo pausa battere pausa 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 Ci sono delle bellissime canzoni di Sting, che sono canzoni reggae, tutto fatto un pa, un pa, un pa, un pa, un pa. Questo è un po' così, un po' più sofisticato, ma è un po' così. Un altro, subito dopo, cosa fa Vivaldi? Una cosa straordinaria. Sentite questo passaggio qua. Non so se vi siete da crisi conto, ma lui ripete la stessa cosa su livelli diversi, si chiama progressione tecnicamente. C'è un modello fatto su certe note e poi viene ripetuto un gradino sopra, poi ancora un gradino sopra, poi ancora un gradino sopra. Però le durate sono sempre diverse. Vivaldi fa una cosa eccezionale, cioè la prima volta dura sei il passaggio, la seconda volta dura quattro, poi la terza e la quarta volta tre, e l'ultima volta uno. Cioè va a diminuire la lunghezza del passaggio. Sentite, adesso lo faccio dicendo uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, uno, due, tre, uno. E capite, noi non ce ne accorgiamo, ma c'è un'irregolarità mostruosa all'interno di questo passaggio. Alla fine è molto semplice, solamente che l'idea ritmica, l'idea ritmica, di sviluppo ritmico, è assolutamente particolarissima. Vivaldi, vedete che è un altro aspetto ancora della musica del Settecento, era nato proprio pochissimi anni prima di Domenico Scarlatti e di Johann Sebastian Bach, ma ha un altro modo ancora, è molto originale rispetto agli altri due, che pure sono originali rispetto agli altri, sono tre geni, tre geni della musica nati negli stessi anni. Sentite quest'altro passaggio subito dopo, sempre nell'estate, sapete che le quattro stagioni sono le quattro stagioni e questa è l'estate. Nell'estate, fa a un certo punto un passaggio, nello stesso tempo che abbiamo sentito prima, e questo è insintomatico, avete visto l'inizio con quelle pause, con un tempo ad agio, poi questo passaggio allegro, velocissimo, e invece qua fa un passaggio melanconico, anche perché qui descrive un pastorello che piange sostanzialmente, le quattro stagioni descrivono proprio delle situazioni bucoliche, sempre campagnole. perché piange il pastorello, perché teme il suo destino, capisce che il suo destino non ha speranze, cioè una persona povera che non ha prospettive, che non ha prospettive. E questa è la musica. Se io adesso, senza cambiare una nota, vi scandisco la mano sinistra come se fosse un waltzer, come se fosse un waltzer, diventa assolutamente un compositore della prima metà dell'Ottocento, sentite. Non sto cambiando una nota, eh! Questo è Chopin, sembra un pezzo di Chopin, se mi dicessero che questo è un waltzer apocrifo di Chopin, ci cascherei come una peracotta, capite? È Davy Valdi, è Davy Valdi, un compositore di un secolo prima, di un secolo prima. Questo avviene sempre, cioè nella storia dell'arte, nella storia della musica, nella storia della letteratura, ci sono sempre degli artisti che anticipano i tempi, sostanzialmente. Nella loro musica ci sono tante di quelle idee, che sono anche assolutamente nuove, e quindi poi diventeranno feconde anche un secolo, due secoli dopo. Torniamo a Bach, torniamo a Bach. Sentite sempre la regolarità della musica di Bach, rispetto a quello che abbiamo sentito nei compositori italiani, no, invece. Ora, sentiamo questo meraviglioso, meraviglioso pezzo del clavicemolo bentemperato, è un preludio, è il ventesimo preludio del secondo libro del clavicemolo bentemperato, un grande ciclo clavicembalistico, importantissimo, del 1744. E qui avete una regolarità ritmica sempre molto Bachiana, ma un cromatismo. accentuatissimo, assolutamente accentuatissimo e assolutamente modernissimo, sentite. se io lo modifico leggermente, semplicemente facendo un ritmo puntato, diventa un pezzo assolutamente jazz. Sentite, non cambio una nota, le note sono sempre le stesse. sentite, non cambio una nota, le note sono sempre le stesse. sentite, non cambio una nota, le note sono sempre le stesse. il basso proprio, è il tipico basso regolare del jazz, su cui invece poi il solista ci ricama tutte le sincopi, tutti i ritmi regolari che uno vuole. Ora, adesso vi faccio una sorpresa, nel senso che questo è il Chiaro di Luna di Beethoven, che è il pezzo forse meno ritmico che uno possa immaginarsi, cioè fin dall'inizio è assolutamente regolare. e il fascino sta proprio in questa regolarità. potremmo andare avanti per secoli, è un po' come un pezzo minimalista quasi. naturalmente nessun compositore minimalista ha mai scritto un pezzo così bello, ma ecco, tenete presente che c'è un ritmo, no, in questo passaggio, che è straordinario, cioè c'è una vera e propria poliritmia, cioè più ritmi diversi contemporaneamente. e in questo modo Beethoven ci ha abituato, ci fa sentire cinque battute tutte uguali, no? quindi ormai siamo a suoi fatti, potremmo anche addormentarci a un certo punto, poi fra l'altro gli hanno attribuito questo titolo Chiaro di Luna, quindi a Chiaro di Luna uno a un certo punto si assopisce e ciao ciao Ninetta, no? ora, invece introduce un elemento, un elemento che è melodico, demenziale, praticamente è questo l'elemento melodico. che uno lo sente e dici, boh, se non mi sembra l'idea delle idee, insomma, è una svolta nella storia della musica o nella storia dell'arte o del pensiero umano. invece, sentite che roba! allora cosa fa Beethoven? lui ci ha abituato a queste terzine un due tre, un due tre, un due tre, e introduce la quartina cioè il mignolo della mano destra fa una quartina, cioè un due tre quattro un invece di fare un due tre un fa un due tre quattro un contemporaneamente all'un due tre quindi noi sentiamo sentite questa ta 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 sono un due tre quattan un due tre quattran invece è un due tre un due tre il ritmo, quindi è poliritmico cioè più ritmi contemporaneamente, sentite che roba! ora la stessa cosa la ritroviamo in un compositore russo straordinario che è Alexander Scriabin negli studi Opera 8 il secondo studio Opera 8 lui fa... vi suono l'inizio? pezzo romantico! non so se vi siete resi conto ma la mano destra qua fa... fa delle quintine cioè sono... pensate alla parola locomotiva locomotiva sono cinque sillabe locomotiva 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 lo no, questo fa la destra invece la mano sinistra no, fa amore amore cioè amore 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 cioè tre note tre contro cinque quindi sono due inconciliabili irregolari figure una alla mano destra e una alla mano sinistra immaginatevi due persone che uno dice locomotiva 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 e l'altra fa amore 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 nello stesso nello stesso tempo nello stesso tempo e viene fuori un prisma un prisma meraviglioso sentite che l'effetto ve lo suona un po' più nettamente sentite capite? tre contro cinque tre contro cinque sentite adesso un pezzo di Beethoven che è l'ultima sonata per pianoforte l'opera 111 è il Beethoven più avanguardistico più spericolato che non venne capito per tutto l'ottocento infatti non venne neanche eseguito l'ultimo Beethoven nell'ottocento perché venne capito solamente all'epoca di Schoenberg sostanzialmente nei primi del novecento venne recuperato e si capì che l'ultimo Beethoven non era semplicemente il frutto no distorto di un pazzo sordo no solipsista ma una serie di colpi di genio di quelli che noi diremmo coseno di poi di una modernità straordinaria qui addirittura anticipa il boogie boogie infatti Stravinsky chiamava scherzosamente questo pezzo il Beethoven boogie boogie no e sentite sentite come suona scusate ho sbagliato pagina allora lo risuono dall'inizio sentite che roba suona 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 a suona l'an imperiale mercerto altra rec time, no? Precorre quello che avverrà alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, sostanzialmente la nascita del jazz. Cioè qui c'è una specie di informe delirio ritmico in cui una persona invece di parlare tutta para-para così con il tempo sempre uguale è come se continuamente facesse così 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 sempre con questo affanno, affanno che poi è tipico del jazz. Sentiamo il bel Danubio blu di Johann Strauss e qui sentirete un'altra particolarità ritmica molto curiosa perché sostanzialmente è un waltzer ma l'accento è sempre... il waltzer è in tre... un due tre un due tre... un due tre... ma non è un due tre... un due tre... ma è un due tre... un due tre... un due tre... Cioè qui Johann Strauss fa un piccolo accento sul terzo movimento non sul primo e quindi sentite... Sentite? Cioè se io lo suonassi così Cioè se io davessi un accento sul primo movimento Sarebbe una vera schifezza Quindi ormai qua Gli accenti sui tempi deboli Sui tempi che non erano il battere della battuta Quindi la scansione della battuta Come punto di riferimento Come respiro Si va sempre in più verso Contro il respiro Contro il passo regolare Sentite la Dua Schumann Compositorio romantico Quindi qui siamo intorno a 1840 No? 1840 Fa un pezzo in tre Si chiama fra l'altro il cavallo a dondolo In un ciclo per pianoforte Che è Kinderzene Cioè scene di bambini E qui si immagina un bambino Che va sul cavallo a dondolo Quindi il cavallo a dondolo C'ha questo movimento Movimento che ti sposta sostanzialmente Il mondo In su In giù Continuamente Quindi qui l'accento è sempre sul terzo movimento Proprio lo scrive l'accento Sentite che roba E per giunta c'è anche la sincope Quindi sincope a cento sull'ultimo movimento Sentite che roba E per giunta c'è anche la sinope Mima il movimento irregolare del cavallo ad ondolo. Adesso un altro pezzo straordinario dell'Ottocento è il quadro di un'esposizione di Emodest Mussolski, un compositore russo straordinario, ubriacone, autodidatta, quindi selvaggio, una musica selvaggia, molto originale, il compositore meno accademico della storia si può dire in un certo senso, cioè lui proprio il conservatorio non sapeva neanche cosa fosse, insomma, ha scritto una musica meravigliosa, un talento incredibile. Comincia così, quadro di un'esposizione cominciano così, in maniera apparentemente regolare, sentite. Assolutamente regolare. Se io adesso vi conto il numero delle note, sentite che numero strano viene fuori. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Undici. Ma è una cosa, dispari. Cioè, non è quattro, 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 o tre, 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 tre. No, è cinque più sei. Cinque più sei. Quindi noi non ce ne accorgiamo neanche, ma è una musica che zoppica. Fra l'altro, usa non una scala maggiore, non una scala minore, cioè non una scala di quelle che siamo abituati a sentire nella musica classica. Direi non solo nella musica classica, eh? Anche nella musica leggera. La scala minore. La scala maggiore. Lui usa questa scala. Che è una scala pentatonica di cinque suoni. Quindi è una scala orientale. Ma sapete che la Russia è una portaerei che dall'Europa, dall'Europa occidentale, arriva sino davanti al Giappone. Quindi è un crogiolo di influenze incredibili, incredibili. Quindi è da lì che è arrivata la cultura orientale, oltre che da tanti altri modi. Ma la Russia è stata, per la musica, un elemento straordinariamente ricco di riferimenti musicali orientali. Quindi sia dal punto di vista ritmico che dal punto di vista, dal punto di vista di scale, di scale proprio. Quindi di altezza delle note, di melodie. Sentite il secondo pezzo che è lo gnomo. E qui vi vorrei far proprio pensare, più che al ritmo in sé, all'irregolarità con cui vengono disposte le figure. Sentite che roba. Siamo nel 1870, eh? e quindi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ecco, allora non so se avete notato, credo di sì, innanzitutto all'inizio, forse è una cosa che si nota meno di quella che invece vi farò notare dopo, ma sentite l'inizio, ripete due volte l'elemento e poi la terza volta si scatena, cioè fa due volte, tira da ria da, tira da ria da, e poi tira da ria da, pir va, pir vi, pa pa pa, adesso ripete, però il momento di attesa è solo una volta, sentite, e si scatena subito, c'è la possibilità allora di ripetere, di fare una figura due volte in un modo, e poi farla scatenare, farla impazzire la terza volta. Lo ripeti, non fai due volte l'attesa, non dura due volte, ma una volta sola, cioè c'è un'irregolarità, che in Bach non può esserci, cioè in Bach abbiamo visto invece una regolarità, anche in Mozart, in questo tipo di regolarità. Un'altra cosa ancora, vedete quando lui ha fatto così, c'è un elemento diverso, è come se improvvisamente, da questo gesto tranquillo, si aprisse una finestra e si ha e poi di nuovo si richiude la finestra e torna l'elemento più tranquillo. e di nuovo si apre la finestra e abbiamo questa è una cosa che ha a che vedere con il ritmo, perché è una cosa ritmica, cioè si apre questa finestra improvvisamente su una cosa, su un treno in corsa, mentre noi siamo tranquilli, e questo aprirsi avviene attraverso un certo ritmo, cioè lui fa sì che la durata della cosa tranquilla poi venga rotta, rotta in un certo modo la prima volta e rotta in un altro modo la seconda volta, in modo che diventi quasi un ritmo interno, formale, dell'ascoltatore che si è abituato in un certo modo e invece Mussolski disattende questo modo in maniera sorprendente, geniale, assolutamente geniale. Adesso sentiamo come Puccini, Giacomo Puccini, nella Fanciulla dell'Ouest, che è del 1906-1907, ci faccia sentire un passaggio che dovrebbe essere scritto così, cioè sentite e invece con la mano sinistra, Puccini con la mano sinistra, e quindi con l'orchestra poi ovviamente, ci fa sentire tutto un passaggio invece sui tempi deboli, in levare. Quindi la mano destra è esattamente come ve l'ha suonata, la sinistra invece è tutta in levare, sentite. A parte che sembra Petrushka, no? Alla fine, tutto questo passaggio straordinario. Sembra Stravinsky, no? Negli anni dieci. Ma soprattutto, armonicamente, c'è una cosa straordinaria, perché lui fa così. che non è una scala, non è una scala europea, diciamo così, ma è quella che poi usa Carlos Santana in Oyeствуco ma va. Oyeствуco ma va?". Cioè, la scala, tecnicamente si direbbe la scala melodica ascendente minore, la scala minore, melodica ascendente, però usata armonicamente, non così. dovrebbe essere così, infatti sembra anche più russo, invece fa così, sentite, Carlos Santana, io non so i più giovani se conoscono Carlos Santana, ma per chi ama Woodstock e tutta quella generazione fin anni 60, primi anni 70, Carlos Santana era un vate. Ora sentiamo un altro passaggio immediatamente successivo sempre della Fanciulla dell'US di Puccini e sentite cosa fa ancora, adesso io sto facendo una deviazione verso l'armonia, adesso vi parlo anche di armonia, non solo di ritmo, sentite che roba, anche il ritmo, eh? Beh, qui è un pazzo, sembra Stravinsky, cioè improvvisamente lui fa, così sarebbe, con questo ritmo abbastanza irregolare e asimmetrico e sentite poi come conclude, che non c'entra niente con, poteva finire così, in maniera assolutamente tradizionale, accademica, no? Lo sentite, e però aggiunge una specie di sberleffo, un accordo che non c'entra nulla con questo. Siamo ormai nel 1900, ma siamo entrati nel 1900 attraverso il ritmo, cioè siamo arrivati attraverso, abbiamo visto tutte queste irregolarità, queste sincopi, questi cambiamenti sorprendenti, no? Del flusso regolare, no? Cioè, Mozart, no? C'è una certa regolarità. Qua invece sentirete degli accenti spostati, questo è un regtime di Scott Joplin, e sentite la mano sinistra che è assolutamente regolare come... regolare, regolare. La mano destra invece è abbastanza irregolare, sentite che roba. E' come se fosse un'altra persona che ha un ritmo diverso, un ritmo cardiaco diverso. Vi accenno questo regtime bellissimo. Giorgio Giorgio Capite? Quindi allora, pa, 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 no, quello che abbiamo anche visto in... Cioè un Bach diventato improvvisamente, impazzito improvvisamente, improvvisamente Bach fosse diventato un jazzista, no, un jazzista, la stessa cosa avviene qua in Scott Joplin. Debussy, proprio qualche anno dopo, nel 1907, scrive una suite che si chiama Children's Corner, dove fa la stessa cosa, cioè fa proprio il rec time, quindi c'è subito un'influenza della musica popolare, come sempre è avvenuto, e questo è straordinario. Cioè c'è stata, fino all'avvento della televisione, diciamo così, la musica popolare è stata una linfa vitale, anche la musica folk, cioè la musica proprio folkloristica, la musica etnica, diciamo così, di tutto il mondo è stato un elemento vitale per la musica classica. Poi c'è stato uno scollamento, ma perché c'è stata la televisione? Con la televisione è finito tutto il rapporto che c'era, ma è un discorso troppo lungo questo, quindi non ve lo risparmio. Sentite allora il rec time però di Debussy, quindi di un compositore colto, non di un nero americano, di un afro americano come Scott Joplin, sentite. Ta-da, 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 ta-da. Quindi il ritmo è quello del rec time. Sì grazie a tutti eccetera eccetera non so se alcuni di voi conoscono Tristano Isotta di Wagner credo di sì Tristano Isotta è celeberrimo l'inizio il preludio e qui c'è una presa in giro presa per i fondelli di questo pezzo così importante così straordinariamente bello così significativo così mitico proprio nella storia della musica che è l'inizio del preludio del Tristano Isotta con l'accordo del Tristano su cui sono stati scritti interi trattati di armonia cioè un accordo misterioso che all'epoca sembrava fosse calato dal cielo è assolutamente nuovo modernissimo e qui Debussy da ironicamente in maniera amabile ma corrosiva lo mette alla berlina sentite sembra che ci rida sopra ma si può ridere ovviamente un grande compositore come Debussy può irridere anche la cosa più sublime che ci sia stata poi Wagner si presta a essere preso in giro perché lui si prendeva molto sul serio molto sul serio ora giustamente cioè quando uno è un genio può anche prendersi sul serio il punto è che ci sono tante persone che non sono geni e si prendono sul serio in maniera quasi ridicola ecco e lì nasce il ridicolo e lì nasce il ridicolo ora adesso un momento di leggerezza vi faccio sentire una canzone di Gershwin il testo è quasi ridicolo in italiano perché e questo è curioso quando uno sente una canzone almeno io ho sempre evitato quando ero ragazzo intuivo che i testi non dovevano essere un gran che insomma anche di canzoni bellissime e ho sempre fatto a meno soprattutto le canzoni inglesi di approfondire il testo perché temevo delusioni ora se uno legge le canzoni di Gershwin e legge il testo che è del fratello c'era George Gershwin il grandissimo compositore fantastico lo conosciamo tutti il fratello era Ira Gershwin i testi sono di questo tenore cioè quando guardo nell'azzurro dell'infinito cielo tanto bello che non mi sembra vero qualche cosa mi fa pensare al paradiso ma quando dolcemente ti stringi a me vicino e ballando mi parli piano piano non così lontano mi par il paradiso eccetera eccetera ora non c'è niente di male sappiamo che nella musica leggera i testi sono funzionali insomma e sono e sono e sono testi d'amore sono testi d'amore molto semplici in cui l'amore è visto come qualche cosa di piano non di pianoforte ma di piano proprio di dolce di tenero ora adesso so che c'è il rap e c'è il trap il trap in cui i testi sono invece terrificanti si inneggia quasi all'omicidio quindi ecco questo è l'altro il rovescio della medaglia del trap non so come si dice che nella mia generazione trap era trapattoni l'allenatore della Juventus il trap invece adesso c'è il trap che è questo rap molto molto aggressivo quindi invece quando guardo nell'azzurro dell'infinito cielo tanto bello che non mi sembra vero qualche cosa mi fa pensare al paradiso ma quando dolcemente ti stringi a me vicino e ballando mi parli piano piano non così tanto mi parli il paradiso la cosa più fantastica allora diventa semplice non c'è nulla di impossibile quando sono con te voglio creare una scala una scala che non c'è mille gradini di seta e arrivare fino al cielo ti porterò in paradiso l'avrò l'avrò a me vicino la scala per il paradiso sarà bella insieme a te e qui c'è tutta una somma di quello che abbiamo visto fino adesso il ritmo puntato la sincope e tutta una serie di elementi ritmici che sono travasati dalla musica classica e invadono tutto il pezzo e lo fanno diventare un pezzo di Gershwin degli anni 20 un pezzo swing quello che è swing ma non è che Mozart non fosse swing l'abbiamo già sentito negli esempi precedenti che il swing in realtà c'è sempre stato è sempre stato così se uno suonasse la musica esattamente così come è scritta no bisogna avere swing se non si ha swing non basa a leggere le note che ci sono scritte sentiamo adesso una una canzone dei Beatles sempre con questo tenore i Beatles sono straordinari perché imitavano gli stili anche facevano una canzone in stile Scoggioplin una canzone in stile Gershwin una canzone nel loro stile ma si divertivano un mondo a scrivere canzoni anche di generi diversi quindi questo potrebbe essere un pezzo degli anni venti no 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 è quando io quando io avrò 64 anni si chiama when I'm 64 dice quando invecchierò e perderò i capelli tra molti anni quando uno c'ha 20 anni quando uno c'ha 20 anni gli sembra impossibile no di arrivare a 64 anni invece si arriva molto rapidamente purtroppo allora quindi quando invecchierò e perderò i capelli tra molti anni mi manderai ancora biglietti d'amore auguri di compleanno e una bottiglia di vino avrai ancora bisogno di me mi sfamerai ancora quando avrò 64 anni when I'm 64 or Grazie a tutti. Assolutamente deliziosa. I Beatles erano dei veri geni in questo senso, proprio loro rubavano, rubavano, rubavano a tutta la musica che conoscevano, prendevano di qua, di là e riuscivano a sintetizzarla e farla diventare, a inglobarla nel loro stile, che è un po' il segreto di tutti i grandi compositori. Vi faccio, adesso apro una finestra, qua siamo nel 1928, c'è una canzone che cantava Bessie Smith, una grandissima cantante degli anni 20, c'è una donna che si sveglia, malamante, è andato via e il letto è vuoto. Quindi questa donna naturalmente è una fumatrice di 100 sigarette al giorno e beve due bottiglie di whisky al giorno, quindi Bessie Smith aveva una voce proprio completamente sfatta. Quindi Beh, qui armonicamente avete sentito delle cose stranissime, per esempio sentite questo... E' il blues, è il blues, il blues è una cosa particolare da cui poi nasce il jazz, il jazz. Cioè, vi ripeto, la scala di do maggiore, la scala blues non è questa, la scala blu è questa, blues, la scala blues è questa. Invece di... Però gli accordi sotto rimangono gli stessi normali, quindi questi... Quindi c'è la sovrapposizione di questa scala con delle dissonanze molto particolari e invece gli accordi soliti che usava anche Mozart. Quindi sentite... Sentite... Quindi la destra fa delle cose... Che però sono il colore... Queste dissonanze atroci sono il colore della musica jazz. Ora sentite adesso un pezzo di Gershwin, qui siamo nel 1926 quindi praticamente nello stesso anno di questa bellissima canzone. E' un pezzo per pianoforte, lui ha scritto solamente... Per pianoforte solo ha scritto solamente tre preludi e questo è il primo di questi tre preludi. Qui è interessante perché usa la scala blues, quindi sentirete proprio questo suono e questo tipo di temperatura armonica. Però il ritmo è interessantissimo perché... Qui siamo in praticamente, fate conto, otto ottavi, cioè due quarti. Pensate però a otto ottavi, cioè avere otto ottavi vuol dire un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro... Invece qua lui fa un, due, tre, 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 un, due... Capite? Quindi non fa un, due, tre, quattro, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre... Questo è tipico della samba, della bossa nova, quindi sentite... E' un tempo assolutamente regolare perché due quarti, uno, due, però... E' bellissimo. E quindi avete sentito... Qui c'è un ritmo che è nuovo, cioè un, due, tre, un, due, tre, un... E io con il schiocco delle dita faccio una cosa regolare, ma è... Vedete che io non vado, non vado insieme alle dita, non vado insieme a questo ritmo regolare, vado sul ritmo, ma è quello che si dice appunto, lo swing, il jazz. il jazz. Tutto questo naturalmente c'è nella musica classica. Quindi undetre, 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 undetre. In bella Bartók, attenzione questo è curioso, attraverso la musica bulgara soprattutto, il tuo cuore bulgaro è il più bello d'Europa, non sto scherzando, è il più bello ritmicamente, e senz'altro i ritmi bulgari sono i più affascinanti di tutti. Poi naturalmente i ritmi ungheresi, Bartók era ungherese, rumeni, cioè tutta quell'area del centro Europa est, dal punto di vista musicale, è il più ricco in assoluto. E qui abbiamo proprio un, due, tre, esattamente come ha fatto Gershwin, però attraverso la musica popolare bulgara. Questa è una danza in ritmo bulgaro, appunto. Undetre, 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 undetre. Cioè è lo stesso ritmo del pezzo precedente di Gershwin, però attraverso l'influenza della musica bulgara. Undetre, undetre, undetre. Attenzione perché i quattro quarti, cioè l'otto ottavi, che equivale al quattro quarti, un due tre quattro, un due quattro, un due tre quattro, un due tre quattro, quindi otto ottavi, quattro più quattro è otto, si può dividere in tre più tre più due, ma anche in tre più due più tre, o anche addirittura in due più tre più tre, e fa sempre otto. Quindi gli accenti però sono messi sempre in maniera diversa. In questo pezzo di Gheorghi Ligeti, che è uno dei più grandi compositori contemporanei, un genio assoluto, è del 1985, per pianoforte, questo è uno studio che si chiamava Fanfar. Cioè undetre, 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 undetre. . . . . Avete sentito? Non vi sto a tediare con il 2 più 3 più 3, ma c'è un altro pezzo di Bartok straordinario in cui cominciamo a vedere che addirittura si possono cambiare le battute. Cioè non più avere un pezzo che è in due quarti, o in tre quarti, o in quattro quarti, ma ogni battuta cambia. Quindi per esempio questo passaggio, questo pezzo qua, e questo proprio, anche questo deriva dal folclore bulgaro, i bulgari cambiano nel folclore, a Plovdiv, sono entrato in una scuola di etnologia e ho assistito alla lezione di un insegnante che faceva lezione a un gruppo di musica etnica bulgara, ed era una cosa sconvolgente. Suonavano da Dio. Io non ho mai sentito suonare così bene in ensemble, poi un insieme di strumenti erano 5 o 6. L'insegnante, dopo nemmeno un minuto, si è alzato e ha cominciato a urlare come un nazista in un film americano degli anni 50-60, come un pazzo, perché non gli andava bene come stavano suonando. Cioè sono di una severità e di una serietà su quello che fanno che è assolutamente ammirevole. Ecco, per fare questi ritmi, è chiaro, soprattutto per andare insieme, bisogna essere, appunto, ammirevoli, ammirevoli. Sentite allora questo pezzo che è due quarti, tre quarti, tre ottavi, cinque ottavi. Cioè, un due tre quattro, un due tre quattro, cinque sei, un due tre, 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 Sentite come tutto è... immaginatevi ballare, ballare questa musica, perché noi siamo abituati al ballo che noi sappiamo dov'è il battere e quindi o un waltzer o una mazurka o quel che è, sappiamo come si fa a non pestare i piedi della nostra o del nostro partner, no? E qua invece si tratta che veramente non sai dove mettere i piedi, non sai dove l'accento, devi impararti delle cose complicatissime. Ora, sentite adesso la stessa cosa, forse nel pezzo più famoso, più importante e più bello del novecento della musica classica, che è la Sagra della Primavera di Igo Stravinsky. Nella Sagra della Primavera Stravinsky fa questi ritmi moltiplicati cento, moltiplicati cento, quindi quasi sempre non c'è una battuta uguale all'altra, sostanzialmente in tutta la Sagra della Primavera, in 32 minuti di musica. E si tratta di una grande orchestra che deve andare insieme, quindi uno dei pezzi più difficili per un direttore anche da dirigere. Ecco, al pianoforte è un po' più facile da un certo punto di vista perché suono solo io, immaginatevi adesso 120 persone che suonano questa cosa qua. Sentite, sentite, prima prima vi dico, di mimmo un po' come potrebbe essere un solfeggio di questo di questo passaggio, cioè 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 Grazie a tutti. Ancora più, se è possibile, ancora più difficile, più complicato ma stupefacentemente bello è il finale, cioè la danza del sacrificio. La danza del sacrificio arriva veramente a una complicazione pazzesca, quindi adesso cercherò di dire i numeri mentre suono, sentite cosa viene fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 balla una musica del genere insomma come si balla una musica del genere è affascinante ecco che miliardi di persone miliardi di persone si accontentino dei ritmi ballabili della musica commerciale insomma quando invece io credo che per ballare io non so ballare ma se dovessi ballare mi piacerebbe di più ballare la sagra della primavera ecco probabilmente come dire in maniera molto prosaica per rimorchiare una ragazza o un ragazzo si rimorchia più facilmente con un ballo lento con un liscio non lo so una cosa del genere ma è certo che la sagra della primavera è più difficile adesso termino questa mia delirante prolusione su il ritmo e un po l'armonia della della musica degli ultimi secoli andando verso la deformazione cioè nella musica del novecento c'è anche la deformazione che poi c'è nella pittura del novecento per esempio quindi immaginatevi il cubismo ritratto cubista è un ritratto ma è anche un quadro astratto contemporaneamente qui il modello in questo caso questo è un pezzo di hindemit del 1922 che è la suite 1922 si chiama questa è una marcia e il modello è schubert proprio pom 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 più marcia di questa no proprio la banda solamente che hindemit invece di fare la deforma sentite come è terribile e qui è un compositore tedesco l'espressionismo tedesco è un espressionismo è una musica stravolta esattamente come i quadri espressionisti bellissimi di kirchner nolde eccetera eccetera avete sentito qui addirittura fa il trombone lo mima facendo così però non lo fa così ma proprio con la dissonanza più atroce oppure la cadenza finale che dovrebbe essere così e invece lui fa sostituisce questo accordo che dovrebbe essere la dominante che va alla tonica tipico della musica tonale occidentale invece la deforma però c'è il gesto tan tan cioè il levare e il battere della battuta è un gesto e uno può fare il gesto della cadenza lo può fare anche così è un ritmo cioè la cadenza è anche un ritmo sentite proprio da questo proposito un brevissimo pezzo di schoenberg e qui siamo nel 1911 è un pezzo a tonale quindi il primo schoenberg prima della musica decafonica e qui abbiamo il ritmo di marcia e poi alla fine proprio la cadenza a quinto primo il ritmo della cadenza a quinto primo però c'è solamente il gesto ma non le note sentite ecco avete sentito che è un pezzo molto difficile da ascoltare però è breve però è molto breve forse è anche affascinante se se voi lo riascoltaste lo riascoltaste lo riascoltaste lo riascoltaste trovereste moltissimi nessi straordinari in questo pezzo viene tutto c'è il ritmo di marcia ta-tan 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 il ritmo puntato non è il ritmo puntato e alla fine c'è questo gesto io potrei suonarlo così potrei finire così invece schoenberg finisce c'è solamente un accordo che non c'entra niente con quello che dovrebbe essere ma è c'è il gesto della cadenza questo gesto della cadenza c'è anche in uno straordinario compositore russo nel romeo giulietta di prokofiev proprio nel pezzo che si chiama capoletti e montecchi capoletti e montecchi che è molto più orecchiabile molto più semplici da ascoltare del pezzo di schoenberg che abbiamo appena citato qua la musica è assolutamente assolutamente accattivante insomma melodica famosissima fra l'altro però sentirete delle dissonanze e proprio nel momento della cadenza quinto prima anche qui una deformazione straziante e dell'armonia sentite avete servito che c'è proprio la deformazione c'è la stessa deformazione che c'era in Inmitter e in Schoenberg c'è un altro tipo di deformazione sentite questa battuta che dovrebbe essere così sentite cioè l'accordo l'accordo che io mi aspetterei invece lui fa così non è ma è c'è un'alterazione c'è una dissonanza tremenda che però è come insaporire un piatto col peperoncino e viene fuori un piatto gustosissimo di nuovo e qua sentite la fine che dovrebbe essere così ma questo lo avrebbe voluto scrivere un compositore mediocre ma invece Prokofiev deforma e fa così sentite non è ma è è terribile capite? la deformazione la deformazione naturalmente bisogna abituarsi a queste cose bisogna avere un minimo di curiosità no? e aspettarsi dall'arte e dalla musica quindi un mondo che non è quello di tutti i giorni per il mondo di tutti i giorni c'è già la televisione la televisione che non ci porta poi in lidi inesplorati in televisione tutto è già esplorato e noi dobbiamo semplicemente fare un ripasso invece con l'arte con l'arte riusciamo veramente a viaggiare a viaggiare nello spazio nel tempo no? e nel e nel nostro cervello un caro saluto a tutti quanti e grazie per questa no? se avete ascoltato tutta questa questa mia questa mia pappardella grazie iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video Rinascimento Culturale ti ringrazia